Mi faccio delle domande, Claude. Anch'io. Che ci sarà dentro a questi ravioli? No, io dico sul serio. Pure io? Ho l'impressione che non siamo dalle persone giuste. Ma se ti dico che ho riconosciuto il padre, gli ho fatto migliaia di foto durante il matrimonio. Ho un viso così antipatico, mica te lo scordi. E allora come ti spieghi che hanno vissuto vent'anni nel nostro paese e non capiscono quello che diciamo? Il crollo dell'integrazione francese. Quante volte te lo devo ripetere? Claude. Mori, mori. Non li mangiare. C'è qualcosa di appiccicoso. Vi oltre vado piccante nei ravioli. Oh, porca miseria. Che succede? È il vostro figlio. Fa una videochiamata. Straordinario. Possiamo fare una riunione di famiglia. Ciao, famiglia. Ho parlato con i miei, vi aspettano da un'ora. Ma che vai dicendo? Ciao, siamo da loro. Sono davanti al tuo simpatico papà. Ciao. Sono fatta cucù. Come si dice cucù in cinese? Ciao. Non lo so. Ma io questi non li conosco. È il quarto piano a scala sinistra. Claude, secondo me abbiamo sbagliato cinesi. Sbagliato cinesi? Oh no. Oh sì. Io non mangio di nuovo. Ma allora chi sono? Ma allora chi sono?